Ciao a tutti e benvenuti su Motorda K Mania in questo nuovo video! Allora, oggi sono raggiante! Questa settimana vado ad ordinare il 500 nuovo che prenderò e quindi, insomma, spero che vada tutto bene e sono veramente positiva. La mia KSR l'ho trovato a chi venderla, solo che ovviamente non vi svelo che moto sarà perché poi ci dedicherò un video a sé. Volevo anche dirvi che ho acquistato il videogioco della MotoGP 2021 e inizialmente non ci avevo mai giocato, l'ho preso per PC e è un po' strano perché curva poco e ti fa scegliere il tuo avatar e niente, quindi inizi con i test, poi dopo potrei passare alla gara e ci sono altre opzioni io. Lo pensavo diverso, nel senso che magari potevo scegliere il pilota che volevo invece almeno per ora no, forse sono da sbloccare se qualcuno ha MotoGP o ci gioca fatemelo sapere che mi spiegate un po' come è magari nei commenti. È molto bello, comunque è figo e ho creato il mio avatar con una faccia bruttissima però vabbè, ho la mia moto e quindi sto imparando a giocarci magari ci dedicherò un video più avanti su quello. Niente, detto questo, adesso vi lascio al video che vi avevo promesso. Grazie. 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 Grazie.